Speed Race, la BC dell'Energy Drinking Io ti volevo dire due o tre cose quando abbiamo un po' di tempo Va bene Fernandio o GPD Sì GPD Va bene Ciao Carlitos Sì Stiamo registrando una semi-intervista No va bene, è bella questa intervista così Vieni a mettere la testa dietro la telecamera Ci vediamo Ciao Leo Eh Va bene Guarda, vieni a salutare perché se tu vieni fuori da qui Ehi Che mano di mano Ciao Ciao